Uzi Uzi, ciao a tutti da New Uzi, signori, è la partita di o dentro o fuori, gara 6, conduce Atalanta, 3 a 2, questo Schroeder che sta sostituendo il playmaker titolare dell'Atalanta Rao sta facendo dei playoff veramente da campione Attenzione, besimo Bravo, bravo Ah, che sfiga Quanto è importante, vedete quanto è importante il rientro di Joaquin Noah, finalmente Parlo di Derrick Rose, due tiri liberi per l'Atalanta Sono teso, sono teso, sono teso Schroeder sta facendo veramente dei playoff da paura Non mi ricordo come si chiama il playmaker titolare Ma è comunque uno dei più forti dell'Atalanta Good Nuggets Good Nuggets Good Nuggets partner E' ok in spalla Da Pezzmore Due tiri liberi per Chicago Mette la prima via Naguzzi Che va a battere Pugno Poi il Gasol E mette anche la seconda Più uno Chicago Ottimo, ottimo Queste partite veramente ha dimostrato l'Atalanta Di avere veramente una percentuale del tiro Impressionante Per Naguzzi da 3 Più 5 Più 4 Chicago E andiamo Ottimo, ottimo Bello Grande Derrick Più 6 Chicago Ci ho provato da dietro A stopparlo Su 4 Ricordiamo che si gioca al Phillips Arena di Atalanta Bravo, bravo, va bene Bravo Ball Fallo di Joaquin Do tiri liberi per gli Atalanta Mette dentro la prima palla L'inquadratura Che francamente non capisco Orford Il centro di Atalanta Mette anche la seconda Più 2 Chicago Bravo Bravo Pierre Di forza Assolutamente di forza qui il Naguzzi Più 4 Chicago Errore mio Errore mio Errore mio Brutta difesa del Naguzzi Stosso uomo Più 2 Bella franchigia di Chicago Nooo Subisce una stoppata il Naguzzi Schroeder Sti blocchi di merda Ancora fallo di Joaquin Secondo per lui Personale Terzo di squadra Banchina per il Naguzzi Attenzione Più 6 Atalanta Più 6 Atalanta Ragazzi Qui si riesce a uscire Al primo turno Playoff Bravo Pierdo 3 Sangue freddo di Naguzzi Più 3 Atalanta Bravo Bravo Federico Buffa Si esalterebbe Davanti alle prestazioni Di Naguzzi Nooo Nooo Bravissimi Errori mio Errori mio Errori mio Cazzo Non ci ho capito Il cazzo Questa zona Offensiva Della Atalanta Bellissimo Grande blocco Del Naguzzi Più 3 Atalanta Jumpshot Underrated But not Undervounded Here's Schroeder Guarded by Heinrich Jenkins Dishes to Schroeder Here's Cephalosha No good Now Chicago Takes it The other way Nick Dermott With the screen For Heinrich Nick Dermott Passes Demiric Intense Bravissimo Ball Così ti voglio Cazzo Aggressivo Figa Dovete onorare La maglietta Di Chicago Bulls Cazzo Che comunque Che comunque è il suo perché Non avrà la storia Dell'Hackers Non avrà la storia Dei Celtic Ma è comunque Chicago Credo che sia la terza squadra Che ha avuto più tutti Di Chicago Eh pardon Los Angeles E Boston Mi fanno paura Da quel punto di vista Ma perché non l'hai presa Che palla di merda Che ho perso Che palla di merda Che ho perso Che palla di merda Più 3 a 30 Vabbè che sfiga però Bravo Pierre recupera una palla Importantissima Per la franchigia Del toro Bello Da 3 Pareggio Grandissimo il Nuggets Che ho già messo all'effetto 13 punti Ovviamente Un'abbiata fava 13 punti Una stoppata E una palla rubata Sono un erro Forse l'ha stoppata L'ho sognata Grandissimo Ma che ha l'estero del Nuggets Grandissimo Che ha l'estero del Nuggets Ma ha fatto la finta A sta merda Fica Atlanta comunque Tanto di cappello Ha fatto veramente Le playoff Da Con grandissima Intensità Bella Saran de Assis Ben Alwood McGermott La mette Parità No E vinciamo Un cazzo di rimbalzo In difesa Figa Lo vogliamo vincere No Ma valla Pier Che ero pronto Per scaricare Un bombone Da tre Bella Via 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 Subito Basti Balla E finisce qui Il primo tempo Tra Chicago e l'Atlanta Hawks 25 25 pari 25 pari Ragazzi Si è dura Signori Ci vediamo Al prossimo video Per il terzo E quarto Quarto A Dopo Qua Il primo tempo